Uomo del parcheggio Misterioso e labile Mi va proprio di fare il returna perché mi ha preso tanto Mi affascina, è misterioso Figo graficamente Poi ragazzi ci sono 3000 citazioni ad Alien Io sono fissatissimo con l'universo Alien Soprattutto Prometheus, Alien, Covenant 1 e 2 Cioè questi sono proprio A me piace anche Covenant Quindi il 3 e 4 no, però il Covenant veramente mi è garbato da fa schifo Prometheus mi è garbato tantissimo Sì mi è piaciuto Covenant, sì 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 Ma non sono tanto creazionista secondo me Vempoto, secondo me sta dando Cioè sta dando che poi la saga è ferma Non so se la ritoccherà mai, speriamo in Disney Secondo me sta Cioè sta proprio creando Sta dando un ruolo divino all'oxenomorfo E a me non dispiace per niente Dico la verità Più Prometheus o Covenant Forse Prometheus mi ha affascinato tantissimo Lo space joker che a un certo punto collega al primo Poi per me il primo è imbattibile Cioè per me il primo è una cosa eccezionale Però per me è un gran film Poi c'ha l'ingenuità dell'horror classico Però mi piace Anche il primo c'ha l'ingenuità dell'horror classico Solo che è cristallizzato Perché è il primo, è il primo Alien, no? È stato il precursore Ma c'ha delle ingenuità enormi Cioè lei che va in giro per l'astronave Con un mostro sputa acido gigantesco Che ammazza tutti Per cercare il gatto Ora Dico bene il gatto va bene Però Insomma Cioè È come andare con la torcia in cantina Quando senti dei rumori Te la vai un po' a cercare Poi si dividono mi pare Anche nel primo Insomma Va bene, va bene così Anche Alien se mi ha garbato tantissimo Però è un altro film È più action È più Più spara spara Più adrenalinico C'è l'esoscheletro Fighissimo Tra l'altro Non digitale È vero Con l'esoscheletro Però il primo Mi dà un senso di ansia unico È proprio horror Fighissimo Escono dalle fottute pareti Poi io ero fissatissimo Veramente fissato Infatti La scena finale di Prometheus O era di Covenant La scena del parto ragazzi Per capirsi È nel primo È nel Prometheus Comunque la roba lì ragazzi Ero fuori di testa È al cinema Fuori di testa Era Prometheus Porco Quanto cazzo mi ha garbato In Alien Covenant Il micomorfo Mi pare si chiama Quello bianco Bellissimo Che poi è La complicata ancora di più Questo Mi pare micomorfo Come cazzo No micomorfo è quello di Resident Evil 7 Neomorfo Il neomorfo cazzo Mi confondevo con Resident Evil Mi ha garbato tantissimo Tantissimo E ha complicato il discorso Che come nascono E il casino Però sti cazzi Era troppo bello Ne volevo di più Infatti volevo un capitolo conclusivo Poi il ruolo di David Sega E poi Io Quando vidi il primo E quando vidi soprattutto La regina Nel secondo E non c'era niente Non c'era nell'area Prometheus Non c'era nell'area nulla Mi feci sempre una domanda Perché hanno Va bene Giger Ma perché hanno questo design Perché sono fatti così Perché sono delle macchine Inarrestabili Chi sono Perché Cioè qualche domanda Ce l'avevo effettivamente Le uova Perché Che motivi hanno Di decimare Tutte queste Cioè Boh Non lo so Poi in fondo ad Alien Perché c'era Lo space joke Chi era C'era tante cose I portoni Sembravano Tipo un popolo antico No Perché c'erano già Tutti i bassorilievi Mi pare c'era anche Nel secondo Non mi ricordo Forse mi confondo già Con Prometheus Però c'erano delle robe Già strane No Non lo so A me il quarto Che fa Canestro Senza guardare Perché c'ha poteri Dell'altro C'erano delle robe lì Ragazzi Insomma Però sai qual è il punto Anche dal quarto Sono arrivati a un sacco Di citazioni Sì no Quello sicuramente Quale Chi mi devo scopare Per avere Viene da Dalla clonazione Sì 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 E poi c'è Ron Perlman E' esattamente lui A dirlo tra l'altro Il primo ragazzi C'è delle scene Cioè quando lui Riaquisisce l'appetito E poi L'ha acquisito Perché serviva Nutrimento All'Alien Dentro di lui Che poi gli scoppia Cioè quella roba lì Cioè è veramente Ragazzi è un'iconografia Che non ci dimenticheremo Mai secondo me No Però anche la cosa Dello space jokey Cioè tu hai ragione Nel senso che le domande Te le fai Però Per me il fascino Dello xenomorfo Lo dice anche il nome È qualcosa che non conosce È qualcosa che non conosce L'ignoto A me sarebbe Piaciuto di più Non sapere nulla Perché sono misteriosi Non so hai ragione Poi ci sta Perché comunque Esteticamente Sono dei film della madonna A me non piacciono Come i film in sé Però Se parliamo di lato tecnico Niente da dire Tecnicamente sono mostruosi Si promette Cioè nel prometeus Ti avevano Messo la pulce in orecchio Sugli ingegneri Ok E io mi aspettavo Che ti approfondissero Gli ingegneri Invece nel secondo Boh Lui arriva lì Li ammazza tutti E non è che ti spiega Effettivamente Chi siano No Perché hanno creato la vita E soprattutto perché Poi hanno cercato di distruggerla Si Vabbè lui voleva Fa una roba grossissima Che poi ovviamente Con l'acquisizione in disney Non gli hanno fatto più fare Anche perché Cioè lui voleva Fa tipo quattro film Cioè è una roba Gigantesca Secondo me Lui si è innamorato Del personaggio di David L'ha approfondito In attesa di Ora si spera Almeno un altro film Cioè che chiuda Però non so Devono fare la serie Non lo so Poi tra l'altro Il secondo Della nuova saga Non doveva neanche chiamarsi Alien Covenant Lo voleva chiamare Paradise Lost Ma hanno insistito Per il brand E già lui non voleva Fare un altro Cioè non voleva chiamarlo Alien Perché per lui è una cosa Diversa Ed effettivamente lo è Però boh Tipo ad esempio A me non A me non era piaciuto Anche il finale Di Alien Covenant Perché Scott è uno molto preciso Di solito Quando narra qualcosa A me questa cosa che Si fossero scambiati Alla fine Ma non ce ne fosse Proprio fisicamente Il tempo Per me è una roba Per il meme Basta Ormai mi sa che ha poco Da sfruttare Perché non lavorerà Mi ha dato 2 milioni Invece che Io sono più contento Io sono più contento per Spacey Che comunque Si spese Era un grande attore Una voglia Cazzo Poi cos'era Baby Baby Driver L'ultimo film È l'ultimo film Che film Credo si Bellissimo Quello poi Doveva fare il secondo Mi pare Io avrei evitato Ma che cazzo Ma perché Ma perché A cosa serve Il secondo I Baby Driver Soldi Non sape niente Ho visto il film X X si chiama È uno slasher Uscito da Da poco E Fico Cioè Mi piace Agnes ha visto anche Compagni di scuola Io l'ho fatto vedere Sì Finalmente Ho visto anche Le fate ignoranti Che non avevo ancora visto Compagni di scuola Il più brutto di Verdone Vabbè Dopo questa cazzata Si può anche chiudere Allora Io Devo dire Che Mi è piaciuto Tantissimo Ovviamente Ma veramente Tanto Tanto Però Cioè Pensavo fosse Più allegro Cioè Pensavo fosse Avesse dei toni Un po' più Leggeri Invece no Guardate la conferenza Che ha fatto a Roma Prima della proiezione speciale Per l'anniversario Ti spiega tutto È fighissimo È interessantissimo No ma È bellissimo Proprio perché Ragazzi Se uscisse un film Del genere Ora italiano Ci sarebbe da abbasciare Il terreno Dove cammina Verdone Perché Non ci sono più film Così purtroppo Ovo Sodo L'ho visto Anni fa Ovo Sodo È un cult Ovo Sodo È un cult Beh dai Sì ci sta per me Tra l'altro è l'unico Che ho apprezzato Tanto Di Virzi Poi basta Però è amaro A me piacciono Quei film Quelle commedie Un po' amare Beh come compagni di scuola Che è amarissimo Però A me ha fatto stare Anche male Borotalco invece È molto più allegro Cioè anche lì ci sono Un po' dei tratti Sempre Però Meno ecco Sicuramente È molto più divertente Molto più Leggero Il prossimo che voglio vedere Di Verdone È Acqua e Sapone Però non c'è C'è su Prime Ma va comprato Non c'è Un altro che mi piace molto Però È più leggero Secondo me È Viaggi di Nozze Secondo me Ok Non è male per niente Però ci sono personaggi Vabbè Però ci sono dei personaggi Amore Leggendarie Delle battute Che sono rimaste Proprio nel gergo comune Tipo Famo Strano Che penso L'abbiano detto tutti Per 15 anni di fila Poi era un po' calata Chiaramente Con il ricambio generazionale Però Cioè Tutti lo dicevano Tutti Cioè È una cosa allucinante Io ho scoperto tante cose In gioventù Ma proprio A 12-13 anni Per mio padre Che mi faceva conoscere Tutto ciò che gli piaceva Nel cinema Quindi io la nuova Hollywood L'ho scoperta grazie a mio padre Mi faceva vedere A un'età Sconsigliatissima Da tutti Filme pesantissime L'ho già raccontato Mi ha fatto vedere Apocalypse Now Mi ha fatto vedere Apocalypse Now A 13 anni Cioè Mi ha rincoglionito Perché non Cioè E mi ricordo Che L'ho raccontato più volte Lo racconto per chi non lo sapesse Mi ricordo che Quando c'erano le scene più pesanti Perché in Apocalypse Now Ho fatto vedere C'era una volta in America C'erano delle scene pesantissime Rideva Quando c'erano le scene pesanti Rideva Sì per sdramatizzare Per farmi capire Che stavo guardando un film E ho guardato tutto Tutto Ho visto Platoon Ho visto Il padrino Il padrino Midnight Cowboy Che è Un uomo da marciapiede Ho visto Il laureato Me li faceva vedere tutti Taxi Driver Che è diventato È il mio film preferito Di sempre Il cacciatore Mi ha fatto delle idee E mi ha fatto così anche con la musica Però magari non li capivi bene amore No non li capivo bene Però li ho riguardati poi Anche da ragazzo E amo ancora Taxi Driver Casino Mamma mia A me traumatizzavano i film Dove C'erano dei mostri Che mangiavano Le persone Quello mi traumatizzava Ancora Anche gli animali Mi dannoissima a me Quella roba lì Perché ti danno a vedere Mangiare gli animali Tipo Sì Mi dannoissima tutto Non lo so perché È una cosa che mi dannoia The Hamlets Assurdo Veramente film assurdo Anche Small Soldiers Infatti è lo stesso regista Bello Small Soldiers Fortissimo film Senza senso Ora si ricomprano tutte Le storie Jurassic Park Le scene Mi davano noia Scena dell'avvocato Mi ha dato sempre Noissima I gorgonauti Small Soldiers Ma anche il design Dei giocattoli Era incredibile Dare un film Che hai visto al cinema Che ti è rimasto nel cuore Toy Story 3 Perché quel finale Al cinema Fu Di impatto Parecchio Io ti dico La città incantata Me lo ricordo Come fosse ieri Al cinema all'aperto Però Nessuno Sapeva bene Cosa aspettarsi È stato il mio primo film Dello studio Ghibli Ci sono andata Con la Chiara Fra l'altro E un'altra mia amica Con mia mamma E C'erano tantissimi Bambini piccoli E Io mi ricordo Nitidamente Che quando il film Inizia Cioè Va avanti Un po' Diciamo Era già un po' inquietante Cioè c'erano delle scene Un po' inquietanti Dei personaggi Strani E i genitori Si sono alzati E hanno portato via I bambini E mi ricordo Sta cosa Ma perché? Perché Non lo so Si erano Spaventati Erano talmente piccoli Che c'era questa cosa Talmente strana Che non la capivano Si sono alzati E li hanno Li hanno portati via E poi Mi ricordo Quando è finito il film La maggior parte Della gente Era stunnata E non capiva Cioè non l'aveva capito Ma è linearissimo La città incantata Cioè cosa c'è da capire? Cioè io posso capire Si alza il vento Che è un film complesso Molto pesante La città incantata È semplicissima È proprio una favola È semplice però È il mago di Oz Giapponese praticamente Non so cosa dirti Non so cosa dirti Ma mi ricordo Stavamo qua Che mago di Oz È adisce nel Paese Nelle Meraviglie Prattivamente Giapponese Non capisco Quali sei il problema Vabbè Cannarsi non aiuta Ma ai tempi Era un cannarsi Molto frenato Ragazzi Si Allora voi È finale Certo Eh Eh Così Però Non Salutami Aul Era Fruibilissimo Cioè insomma No ma La nuova città incantata Ora è molto più Incomprensibile Della vecchia Eh sì L'hanno ridoppiato Sì ecco Non c'era il tuo Boyfriend drago Non c'era nel primo Adattamento Di cannarsi Boyfriend drago Ora c'è Il boyfriend drago No per favore Ma il mio preferito La cannarsata preferita È L'agricoltura ganza Quella è la più bella Cosa del mondo Fortissimo Vi obbligherete A portare su Financo una nonnina Il fratellone Va a pisciare Bella anche quella Secondo fratello Secondo fratello Secondo fratello Di recente ho visto Laputa per la prima volta Non ci ho capito Nulla a causa Delle cannarsate Allora secondo me Non ho già parlato Più volte Il film è veramente Incomprensibile Di cannarsi Quello proprio Dove Ha dato tutto A se stesso È i miei vicini Yamada Che è già un film Che pochi si cagano Secondo me Filmone Di Di Takata Da vedere Poi è da vedere Tutta La produzione di Takata Anche Gosho Il violoncellista Per esempio Lo dovete vedere A tutti i costi La scena Finale Bellissimo Ma Lì proprio Ci sono delle robe Ma veramente Assurde Secondo me ha detto Tanto lo vedranno Un pochi Vai Proprio assurdo Amore comunque Il doppiaggio nuovo Della città incantata È veramente brutto Io non ho mai sentito Allora c'è la parte Dove c'è il figlio di Yubaba Il bambino Quello gigante Che dice sempre Oh oh No? Non è lui? Oh 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 Sembra al mercato Oh Allora signore Ma non parla No però Diciamo nel doppiaggio originale Quella parte era comprensibilissima C'era tranquillissima Nel doppiaggio nuovo Il bimbo parla in terza persona E dice E lui si auto chiama Piccino E quindi Gli dice tipo Adesso tu devi rimanere qua E a giocare con Piccino Oh Cioè così Oh Piccino E Nuova dove Agnesi dove si trova Ma non c'è bisogno di Scoprirlo eh Cioè io guarderei il vecchio Credo su Netflix Guardate il vecchio Va bene così Su Netflix penso sia Doppiato Doppiaggio nuovo Qual era anche quello Dove essere sfogato bene Ricordi a goccioloni Mi pare Che era una pioggia di ricordi Sì il problema è che Quello non c'era Il doppiaggio vecchio Capito Si chiamava pioggia di ricordi All'inizio Ora si chiama Ricordi a goccioloni Ricordi a goccioloni Certo Ma anche Koso È stato difficile Bellissimo film Mamma mia Cosa Principessa splendente È stata È tosto Lì però Lo tolleri un po' di più Perché siamo Nell'antichità Nell'antico Giappone Sì lì è vero È più comprensibile la scelta Ma mia vicina Yamada Cos'è un nucleo familiare Degli anni 90 Mi pare Anni 80-90 Quindi c'è Non aveva senso Comunque pioggia di ricordi È uno dei miei film Ghibli preferiti È uno dei miei preferiti È uno dei Di quelli meno conosciuti Purtroppo Non so Però è bellissimo Film preferito Di Kitano Adico Dolz Senza senso Anabi Anabi Fantastico Sonatine So come si pronuncia Sbaglio sempre Anche qui Asin at the sea Asin at the sea Scusate per la pronuncia Orrenda Ah ok Non è uno dei Dei film Più amati Di Kitano E più venerati Però a me piace Perché Mamma mia L'estate di Kikugiro Ma a me piace tantissimo Perché mette Diciamo che Inquadra il mare Come non l'ha mai inquadrato È un elemento Che nel cinema di Kitano Ricorre sempre Le spiagge Il mare È sempre La sua poetica Lì torna Prepotentemente Anzi Possiamo dire Che il mare È proprio l'elemento Cardine del film Questo ragazzo Muto Che si ossessiona A A surfare A tutti i costi È una storia Molto piccola Che si Che si sviluppa In un piccolo Quartiere In una piccola cittadina In un piccolo Universo E però È gigantesco Allo stesso tempo Perché rappresenta L'ossessione di questo ragazzo Questa storia d'amore Tra questo ragazzo Che ovviamente Non si parlano E questa ragazza Non si parlano E c'è questo mare Che gli aiuta In un certo senso A comunicare E gli aiuta Ad andare avanti A trovare uno scopo Nella vita È di una dolcezza Incredibile Però è un film più piccolo Vi invito a guardarlo Perché è veramente bello Però a me guardano Anche quelli più demenziali Ho visto Takeshi Ho visto No quella è un'altra cosa Cioè è sempre sua Ma non è Proprio il film Intendo L'ho visti tutti Mi è piaciuto anche Mi è piaciuta la trilogia Di Outrage Anche ovviamente Il più conosciuto Zato Ishi Ma Kitano è un gigante Un gigante veramente Tratto Scorsese È uno dei miei registi preferiti Di sempre ragazzi Perché uno mi ha detto Cosa ne pensi Hai nominato Taxi Driver Cosa ne pensi La filmografia di Scorsese Certo ha fatto dei passi falsi Ma raga stiamo parlando comunque di uno Che ha sfornato Capolavori a diritto Cioè Toro Scatenato Taxi Driver Filme incredibili Ma Anche Anche The Irishman A me è piaciuto tantissimo Passi falsi Cioè film Magari un po' più piccolini Ma Quei bravi ragazzi Allucinanti Ma anche Casinò Allucinante Quei bravi ragazzi È una roba Cioè Troppo incomprensibile Cioè Boh È difficile trovarne The Departed Wolf of Wall Street Raga Fuori orario Non l'ho visto Wolf of Wall Street Minstreet Che non l'ha visto quasi nessuno Guardatelo Minstreet Io sì L'abbiamo visto insieme Ecco Shutter Island È quello un pochino più Sì sì però Ecco rispetto a Vabbè più mainstream Madonna Gangs of New York Gangs of New York Chapeau Sì sì No ma sono tutti Allucinanti Chapeau Io sto ancora aspettando Da anni 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 Cosa amore Il terzo film Dopo Alien Covenant Sì guarda Se ne è parlato Due o tre giorni fa Davvero Sì perché Returnal è molto ispirato Si ispira molto ad Alien E Sì certo Bergman è Dio Assoluto in terra Ma secondo me È tosta Ma è uscito Vent'anni fa Covenant A noi Penso Siamo le uniche persone in Italia Cioè saremmo l'un per cento nel mondo A cui sono piaciuti sia Prometheus che Covenant Anche Prusciante È piaciuto Che Prusciante Sì Siamo l'un per cento Prometheus È bellissimo Cioè Prometheus Il posto delle fragole Mattio Ma di che cazzo stiamo parlando Prometheus Madonna La scena di Covenant Di David Che suona piano Bellissimo Cioè ti prego No ma Ma tutto A me piace Porta una sega Poi si scopano Ci sono delle cazzate Scopano E Alien l'ammazza Ci sono Lei che con la ruotona dietro Che non si butta di là Ce ne sono di cazzate O toccan tutto Si sa è vero C'è il meme che toccan tutto Però Oh ragazzi Questo l'ha detto Victor E Prusciante gli ha risposto In una maniera incredibile Victor fa Ma che cazzo fai Vedi un uomo Non parla così Victor Vai lì a toccare E c'è Prusciante gli fa De De Ma loro l'hanno mia visto Alien Basta E qua E si chiude tutto Darione Ti hai visto Il potere del cane Il potere del cane No Però ho visto un film Che vi consiglio Che parla in maniera Molto strana Del razzismo Si chiama White Dog È un film folle Me lo consiglia Tuono A casa sua Aveva comprato L'edizione Eureka Di White Dog Ma questo Questo è bellissimo Dario Te lo consiglio Perché è un film È troppo bello Allora l'ho guardato È incredibile Guardare Subito Godzilla preferito Il primo di Honda Mi dispiace È troppo È superiore ragazzi È superiore Perché è anche un film Furbissimo Furbissimo Che è del 54 È un film Incredibile Perché Voler parlare Così a ridosso Dello scoppio Della bomba atomica Con Quella Possiamo dire Metafora eccezionale Che lui ha fatto diventare Godzilla La bomba atomica Per Citarla Denunciarla Descrivere L'orrore Che hanno provato i giapponesi Per lo scoppio Delle due bombe atomiche Attraverso Un mostro Un mostro gigante Che tra l'altro È squamato E le squame Dovevano ricordare Le ferite Le bruciature Sulla pelle Delle persone Che hanno Subito lo scoppio Della bomba atomica Delle bomba atomica Del Godzilla Degli americani Quello di Emmerich Sì No Quello di Emmerich No È stato il primo Godzilla Che ho visto Quello comunque Sì anche il mio Chiaramente Lo davano sempre alla televisione Sempre Sul 6 Sì È vero È bellissimo Quello di Honda Nonostante Vabbè ragazzi Sia Il 54 C'ha dei problemi C'ha dei problemi Se lo guardate Con l'occhio di adesso È un pupazzone C'è un pupazzone È uno dentro È un pupazzo Però È bellissimo Leggetevi la storia Documentatevi su quel film Perché è incredibile Poi vabbè Ci ha avuto una svolta Un po' strana Godzilla È diventato Power Rangers Però vabbè Il Godzilla di Edwards È molto figo Lo Shin Godzilla di anno È fighissimo E quindi va bene Così Però quello di Emerick È proprio È Jurassic Park Ma poi Si può vedere Godzilla E mangia il tonno Io ragazzi Veramente Va bene tutto Ma Godzilla E mangia il tonno No C'è Godzilla Che mangia il tonno Comunque Però che bello Godzilla mangia le radiazioni Non era bello Quando eravamo piccoli Che Si accendeva la televisione Vedevamo il film Che c'era Si no Quello si Ma poi si sapeva Una sega a 10 anni Cioè Poi te ce ne avevi Ce ne avrai avuti 8 6 Te ne avevi 10 Ne avevo 6 6 Eh ma il mare è inquinato Quindi il tonno È una denuncia sociale Non penso Poi dire Ma Emerick Ma cosa vuole denunciare Fa lo stesso film Da 30 anni Quante Quante volte ho visto Quella cagata Del re scorpione Per colpa di Porco 2 La mummia 2 Corri e scorpione Fatto di pongo Oh ma sempre Ma perché davano sempre Soli di film Pensaci La mummia l'avrà nata 40 milioni di volte Perché erano quei Erano quei blockbuster Fino anni 90 Inizio anni 2000 Che andavano tantissimo Poi mi ricordo Spin off di Indiana Jones Tutte le volte Tutte le volte Che davano La compagnia dell'anello Io avevo la febbre Sempre Mi ricordo questa cosa Quello era buono Da da però In televisione Beh sì Ma poi io con la febbre Ho felicissima Perché nel lettone Con mio babbo A vedere La compagnia dell'anello Mi viene da piangere Amore Bellissimo La compagnia dell'anello È colossale Vabbè La saga di Jackson È incredibile Tra l'altro Sono venuti fuori I primi pareri Le first impressions Sui primi minuti Della serie Di cosa? Lezione dell'anelli Ah ecco Dice che è spaziale Ma io infatti Non ho capito Perché la gente È impazzita Di che faceva cagare Quando ancora Dove uscire Perché si deve confrontare Con la trilogia di Jackson Bellissima trilogia Di Jackson Niente da dire Però è una serie nuova Ci sarà Tomba on Bad Hill Eh capiamo Penso di sì Che è il personale Che mi affascina Di più di Tolkien In assoluto So che sono un po' Un normaloide Ma speriamo ci sia Grazie a tutti Grazie a tutti.